Ciao, sono qui in Umbria in un posto meraviglioso. Questo posto si chiama Narni e non so se ne hai mai sentito parlare ma l'energia in questo luogo è veramente spettacolare. Ho appena visitato con alcuni dei miei allievi delle chiese che hanno un'energia veramente vibrante, vive, sono veramente vive. Qui la terra è viva, si muove, respira, vibra e questa settimana sarà una settimana magica che inizierà in realtà domani dove avremo l'opportunità di portare avanti questa bellissima esperienza di canalizzazione vibrazionale angelica e vedremo che cosa gli esseri di luce ci porteranno a fare e quali saranno le esperienze che ci permetteranno di vivere in questo luogo magico, veramente magico. Vi suggerisco se avete un po' di sensibilità di visitare questo luogo e di permettervi di visitare, abbiamo appena visitato la chiesa di San Francesco che non si trova sulla via principale, si trova subito dietro ed è veramente un'esperienza mistica. Abbiamo sentito un'energia che ci ha mandato in uno stato di profondità interiore incredibile ed è stata veramente un'esperienza wow a tutti i livelli. E con questo ti saluto e ti auguro una bellissima bellissima giornata. Ciao!